questo è forte milio con lo spazio avanti stante la struttura piena di rovi e di spine qui sotto c'è un cisternone che serviva vedete ora dobbiamo pulire bonificare quest'area ci sono i ragazzi dei cinque stelle e del partito del sud qui vedete hanno scatassato i portali speculatori vedete i portali qui c'erano portali in travertino ben lavorati sono stati tutti diverti poi cominciamo il lavoro